Perchè anche un giovane, anche un giovane, anche un... C'è poi un corredore dei nostri, questi qua che corrono adesso, le giri d'Italia. Tu mi presenti questa roba qua? No! Perché sai che quando c'è là, il corpo non è napito. Ti consuma tutto. Per quanto piano tu vai, il corpo consumano. Ma le gambe, io credo che c'è un battolo. Ai tuoi là, c'è anche la pompa. Si avanti perchè... ...tengo in massa dai tuoi. Finisce la benzina, no? ... ... ... ... ... ... ...